Non conosce canzoni pugliesi ma se gliele insegniamo sicuramente le inserirà nel suo prossimo lavoro, comunque poi vi ho detto che tutti i posti dove suona sono swing Una domanda che gli hanno fatto tantissime volte, è abbastanza stanco di rispondere a questa domanda, comunque è una storia vecchia che si trova anche sul suo blog, sul suo bio Ha detto che è il primo chitarrista con cui ha lavorato, che era francese, gli ha dato questo nome, poi il nome è fiuto sui giornali, a lui all'inizio non tanto piaceva ma poi si è abituato e questo adesso è il suo nome d'arte You have played with great international artists, who do you feel close to? Tony Bennett però non ha mai suonato con lui, ha avuto l'affortuna di suonare con Samy Primo e con altri Paul McCartney con cui ha comunque suonato e collaborato You are a singer, a composer, a band leader and a saxophonist, what is your true dimension? Sicuramente il sassofono anche se diciamo non paga al fine dello show però gli piace comunque tutto l'importante comunicare con le persone C'è futuro per lo swing anche in Italia ci sono dei gruppi emergenti molto bravi e comunque si per lui c'è un futuro anche per questo tipo di musica C'è un desiderio ancora che li vuole realizzare Is there something that you'd like to have in your career more than what you've achieved till now? Yeah, maggiore riconoscimento, continuare a fare quello che faccio, scrivere anche di più per le colonne sonore perché va anche bene dal punto di vista economico